In questo video vedremo come fare un ordine su MyGas. Per prima cosa, accedi con il tuo account sul portale mygas.arlykid.it. Clicca quindi accedi e registrati e inserisci il tuo indirizzo email e la password. Da qui il portale ti permette di visualizzare gli ultimi ordini effettuati e creare un ordine ex novo cliccando su Nuovo ordine. In questa pagina troverai elenco dei prodotti presenti nel tuo contratto. Cliccando sulla stellina vicino ai gas, questi verranno aggiunti alla sezione preferiti per facilitarti negli acquisti successivi. Facciamo un esempio, cerchiamo l'ossigeno usando il filtro e cliccando il pulsante blu sulla destra il prodotto verrà giunto al carrello. In questa sezione puoi ricontrollare il tuo ordine, inoltre puoi scegliere la modalità di consegna della merce tra le seguenti opzioni. Effettuata da nostro partner, ritirata presso lo sportello di riferimento oppure consegnata direttamente ai derrykid. Con quest'ultima modalità hai la possibilità di scegliere la data di consegna tra quelle contrassegnate in verde. Prima di completare l'ordine puoi aggiungere o togliere le bombole piene e vuote. Se tutto è corretto, clicca su conferma ordine. Ricontrolla i dati e l'indirizzo di consegna. Se non ci sono errori, conferma l'ordine. Prima di continuare, lascia un feedback, così da poter migliorare il nostro portale. Il portale MyGas ti permette anche di riordinare un ordine fatto in precedenza. Clicca su Area Cliente per visualizzare gli ultimi ordini e clicca il tasto Riordina. Una volta entrati nel carrello, è possibile modificare l'ordine aggiungendo o togliendo le bombole piene e vuote. A questo punto, clicca su Conferma. Ricontrolliamo i dati e l'indirizzo di consegna della merce e se non ci sono errori, confermiamo l'ordine. Lascia un feedback e clicca su Invia. A questo punto, l'ordine è stato inviato da ArliKid. In caso di problemi o domande, nella sezione Contattaci, puoi rivolgerti al nostro Customer Care. Ti ricordiamo che per ordinare un prodotto non presente in contratto, devi entrare nel catalogo dei prodotti gas e inviare una richiesta di quotazione.